Ciao ragazzi, questa RBO, ragazzi ora appena Orso guarderà questa partita si bagnerà tutto perché io ce l'ho entrato, comunque non abbiamo il 6 di chile, comunque sta vincendo tutte le macchie di chi lo può essere, è una persona, è una persona, è una persona, è una persona, è una persona che si riuscita a fare, è un po' più da un po' più da un po' più da un po' più da me che mi riuscita a fare tra i suoi, tra i suoi giornali e secondarmi, comunque non si sa più da un po' 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 più Non lo vediamo, non lo vediamo Non lo vediamo E sta puramente Sta più bene questa scelta Ma non lo guardo perché Sta più bene Però Ma è da Però dai Ma è un pochino Non lo vediamo Perché comunque sono sempre Non è stato un po' perciò Però posso non uccidere Siamo ok Ho provato una traccia 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 Ho provato un po' È fake Oh ho provato la traccia Vedi Un po' Successivo Eh Judge Canta Una Beg Pross Beg Troops Oh Ora ho voluto Un po' Troppe due E Troppo Ho fatto anche un po' Ho zattato nel sbarco Un verde Per Esatto si porta la città con la città con la città la metodella è la bella aspetta che fallo tutto oh stai in setup stai in stai in ping pong ora lo so prova la meteora oh tu gridi e con questa e con questa e con questa si porta a casa probabilmente ora Raff vincerà come ha fatto praticamente la fine non per un non per un sopraffini no infatti potrà vincerà tutto ma chi li potrà scegliere da giocare da m 3 2 1 Via! Questa vede già! Dedede! Vostro shooter! Non è un gashapon nuovo bello di mei! Perchè da parte del video fitness Io sarò detentato! Alla prima! Sì! Io non gli ho venuto a prendere! Però! Io usavo lui! Lui usava shooter! Ed è l'unica one personale! Una delle tia cose che gli ho visto! Quindi! Però! Sembra che questo match non mi dica più standard! Perchè tu sei a un movimento! Sì! Il post match è il nostro giro! Vabbè! 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 ma è iniziale qui vuole dimostrare una gran agonia di questo stop counter che.... non si deve perchè ha progettato quindi fa almeno il blu viene con il blu è più forte backstrasher che non viene punito purtroppo è punibile quella cosa Un entero per il giudice. Un entero per il giudice. Oh, no. Ora, poi, che stai a un po' di mangiare. Oh, no. Ehm, con la ring. 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 Oh, lì. Ha superato, no? Ok. Ok. E ora, in due ore, infatti non sto leggi. Non sto leggi. Però, boh, io ho troverso leggi. No, è perché devi crecere. Sì, è che la sua legge. Comunque, non sono leggi. Ehm, con la ring. Ehm, con la ring. Ehm, con la ring. Ehm, con la ring. . Ehm, con la ring. Ehm, con la ring. . . Sì, sì, e si riporta l'1-1. Bene, da un certo punto. Vittoria, per un change the future. Su! Non penso più di lì, per ti progetti a me, per un solo... Oh, ecco. Sopravvivi! Titti Kong! Titti Kong, che Gianluca già... No, non mi sbaglio, ce l'ho dato. Non neanche il giocato veramente... 3, 2, 1... Via! Quindi potrebbe essere zaccato come Thaust, perché comunque c'è un personaggio alto in terra, le tue... c'è un buon personaggio, non lo spese, e non c'è contro i campi in modo... contro i campi in modo molto buono. Qua dopo anche le... come... ma... esatto. E' un buon raccare danni in modo molto veloce. Però... in questo momento ci riuscì il pendente... e salendo danni... salendo danni... salendo danni dentro... perché fa un sacco di danni in modalità... infatti... 6 danni... e' tanto. Oh! Oh! Lo cerchi! Yes! In modo molto... in mezzo di giro, ovviamente. Però, ripeto... il second può benissimo... recuperare questo vantaggio... per altri danni che può fare. o... o... probabilmente... o... recupera... e... non riesce a recuperare... e' un match che... non necessariamente... non so cosa dire... stop... in mezzo... in mezzo... su! e' giro attaccata... game... e' con questo... cioè... Rusei potrebbe andare in Loser Final... così... dopo aver questo... dopo aver... questo... praticamente... che stavano matatillose... per colpa del... dell'avete datato... praticamente... c'ha la Rizard... Capitano Falcon... un altro personaggio... eh... compresi meno... voleva trovarsi... la bracket fa... c'ha fatto bracket... per non me li... 3... 2... 3... 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 5... il smash è un giocatore che è un giocatore, oggi è un buon giocatore, poi se sta in forma tutti come sta in questo torneo è difficile batterlo, però sai che questo smash è migliore perchè stanno a parità di percentuale praticamente ovviamente il backflash è sculibile, non ho mai messo un backflash e il sniper in realtà non ho mai messo un backflash e il sniper in realtà, non ho sempre il scudo perchè sa che capiamo fa con un back air molto... si 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 e questo è il testo e andrà il testo più detente